Sono Fabio Rumito, docente di diritto tributario internazionale, International Tax Law, qui all'Università Nostra Signora del Buon Consiglio, Dipartimento di Economia, e invito voi, ragazzi che in questi giorni state scegliendo quale università frequentare, a scegliere la nostra. L'Università Nostra Signora del Buon Consiglio, l'avrete già vista in qualche video, in qualche immagine, è un'università piena di verde, di strutture sportive, di ragazzi che hanno voglia di costruire qui il proprio futuro. Corpo docenti di grande livello, di grande professionalità, e soprattutto che hanno da sempre un'attenzione particolare rivolta a voi studenti. Siamo consapevoli delle sfide del futuro, e proprio per questo oggi noi abbiamo l'opportunità di darvi gli strumenti per essere competitivi nel mercato del lavoro, sia con le aziende albanesi, sia con le aziende internazionali, che hanno deciso negli ultimi anni di venire ad investire qui in Albania. Per questo io vi faccio il mio in bocca al lupo più grande, forza, inseguite i vostri sogni, se sceglierete di farlo qui da noi all'Università Nostra Signora del Buon Consiglio, avremo l'opportunità anche di salutarci. A presto!